Quello che vedete nello schermo è il nuovo Super Doom Sigma 100-400 mm di GDN, cioè fatto apposta, ristudiato e costruito per le mirrorless. Ed è la serie Contemporary, cioè la serie meno specializzata rispetto alle serie Sport e Art. Difatti queste serie sono dedicate specialmente, la prima, a chi fotografa avvenimenti sportivi, quindi a determinate caratteristiche di leggerezza e portabilità. La seconda, a chi si dedica a quella che potremmo definire la fotografia Fine Art, cioè quella che ha bisogno di fotocamere con tanti pixel. Questo invece è un obiettivo, diciamo, per tutti. Noi l'abbiamo provato, l'abbiamo provato come sempre in condizioni reali di impiego, e non solamente per i classici soggetti con cui si fotografano i Super Zoom, o comunque le focali molto lunghe. Vediamo che cosa è venuto fuori. Vediamo alcune particolarità dell'obiettivo. Nella immagine vediamo il nuovo obiettivo, quello per mirrorless, che abbiamo usato sulla destra. L'obiettivo per reflex della medesima lunghezza focale, della medesima escursione, è sulla sinistra. Come possiamo osservare, il nuovo obiettivo per mirrorless è più compatto e corto rispetto al precedente. Lo schema ottico dei due obiettivi messi a confronto. A sinistra quello dell'obiettivo per mirrorless, a destra quello precedente per reflex. Vediamo in azzurro le lenti in vetro ottico a bassa dispersione, e in giallo a super bassa dispersione. Sigma per ogni obiettivo rilascia la tabella della MTF, cioè la funzione di trasferimento della modulazione. Questa è una misura che dà conto della qualità di un obiettivo e del suo contrasto a differenti frequenze spaziali. L'asse orizzontale è espresso in millimetri e indica la distanza dal centro dell'immagine agli angoli e anche il valore del contrasto, il valore massimo è 1, il valore del contrasto, dicevamo, è indicato dall'asse verticale. Quindi il grafico indica i risultati MTF a tutta apertura. Vediamo poi la lettura a 10 linee per millimetro, le linee rosse indicano il contrasto dell'obiettivo. La nitidezza, invece, è indicata dalla lettura a 30 linee per millimetro dalla linea verde. Anche in questo caso la lettura è fatta tutta apertura. Le linee continue sono chiamate sagittali, quelle tratteggiate meridionali, e misurano la frequenza spaziale da un angolo all'altro dell'inquadratura. Quindi, osservando le linee, noi possiamo avere una indicazione della qualità dell'obiettivo, cioè della sua nitidezza, della sua capacità di ridare i particolari fini sia al centro della inquadratura, della fotografia, sia ai bordi. Sul barilotto dell'obiettivo troviamo alcuni pulsanti e cursori. Vediamoli partendo dal quello che abbiamo indicato col numero 1. Questo è il cursore per il blocco della zoomata contro l'estensione occidentale. Al 2 abbiamo il selettore di autofocus e manuale. Il 3 abbiamo il limitatore di messa a fuoco. Il 4 un pulsante di personalizzazione. E il 5 il selettore per le modalità di stabilizzazione. Veniamo ad un'altra particolarità, qua indicata in rosso. Questa è una guarnizione sull'innesto dell'obiettivo che una volta inserito nel corpo macchina garantisce la impermeabilità a polvere e spruzzi d'acqua accidentali. Terminiamo questa breve disamina con la fotografia dell'apparecchio con il quale abbiamo usato l'obiettivo e l'obiettivo montato. L'apparecchio è un Sony Alpha 7R Mark IV. Gli obiettivi e gli zoom in particolare di grande escursione focale come questi non servono solamente per riprendere avvenimenti sportivi o animali in libertà. Li possiamo usare con molta soddisfazione per i paesaggi, per i panorami, sfruttando la apparente compressione dei piani prospettici. Quindi riusciamo a ottenere immagini molto accattivanti e che ad occhio nudo o con delle focali di ampiezza maggiore non riusciamo a ottenere. Le lunghe e lunghissime focali permettono anche di isolare dei particolari e ottenere delle immagini molto grafiche sia a colori e sia in bianco e nero. Non credete quando vi dicono che per fare i ritratti bisogna usare solamente il medio tele. No, possiamo usare anche delle focali lunghissime, tipo il 400 mm come abbiamo fatto in questo caso. I risultati li vedete, non hanno bisogno di commento. semmai sottolineare questo piacevole bokeh che si ottiene grazie anche al particolare schema ottico adottato per questo obiettivo. L'obiettivo è dotato di un proprio sistema di stabilizzazione ottica. Montato come abbiamo fatto con la Sony o con una qualsiasi altra fotocamera dotata di stabilizzazione interna abbiamo due tipi di stabilizzazione che garantiscono una buona ripresa e garantiscono buoni risultati nella ripresa a mano libera. Tra l'altro noi abbiamo usato per le foto che vedete in questo video sempre una ripresa a mano libera. ecco qua, vediamo F20, ISO 200 e addirittura un decimo di secondo a mano libera. Abbiamo ingrandito un particolare della immagine una delle linee bianche delle strisce bianche e vedete come la linea sia perfettamente netta e non risulti nessun tremolio dovuto al naturale tremolio della mano che comunque è stato compensato dal sistema di stabilizzazione e sia per le riprese fisse sia per le riprese col soggetto in movimento come in questo caso. Vediamo ingrandimenti al 100% che sono perfettamente nitidi. la distanza di messa a fuoco minima è a 400 mm di 160 cm noi possiamo anche cimentarci con delle foto a distanza ravvicinata abbiamo uno sfocato creativo molto interessante e abbiamo anche delle immagini molto nitide qua abbiamo queste bacche riprese a ISO 1250 un quarantesimo di esposizione a mano libera e 400 mm di focale vediamo l'ingrandimento del 100% il risultato che a noi pare buono. Beh, vi sarete già chiesti ma quando la caccia fotografica riprese di animali con questo obiettivo che pare fatto apposta per riprenderli vista la sua grande focale massima bene, qua vi accontentiamo qua una disputa fra cigni quello di destra sta inseguendo quello di sinistra in questa immagine abbiamo colto uno dei momenti della partenza del cigno quando inizia a volare sempre a 400 mm scatto a mano libera focale a 400 mm tempo molto breve e ottima come possiamo vedere nell'ingrandimento al 100% la stabilizzazione non si vedono tremoli e come al solito terminiamo proponendovi una carrellata di immagini scattate con l'obiettivo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.